Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Qualche settimana fa ho fatto un video che vi è piaciuto molto. In questo video vi davo delle alternative al classico io voglio al ristorante o al bar. Perché vi davo delle alternative? Vi davo delle alternative perché io voglio suona un po' forte, è un po' come un'imposizione. Ad ogni modo, per ogni verbo e per ogni parola in una lingua, ci sono delle possibili alternative che magari sono più corrette in determinati contesti. Nel caso del io voglio, come vi dicevo nel video, io sconsiglio il suo utilizzo. Ci sono tantissime altre alternative che sono più educate, meno forti e più corrette in determinati contesti. Ci sono poi però altri casi, come nel video di oggi, in cui vi voglio insegnare delle alternative a delle parole, a dei verbi, a degli aggettivi. Non perché la parola originale del video sia scorretta, ma perché magari ci sono delle parole più corrette ed adeguate al contesto in cui ci troviamo o all'emozione che noi vogliamo trasmettere. Ecco perché per il video di oggi il titolo non è non usare felice, ma non usare sempre felice. Felice è una parola perfetta, significa happy ed è utilizzabile in tantissimi contesti. È una parola che va benissimo, quindi se non vi ricordate le alternative, non preoccupatevi. Non sconsiglio in alcun modo il suo utilizzo, ma voglio darvi attraverso questo video delle alternative all'aggettivo felice che potrete utilizzare in base all'emozione che volete trasmettere, oppure alla situazione in cui vi trovate. Come per il video del io voglio, anche qui faremo degli esempi per ciascuna di queste parole e di queste alternative. Quindi se siete pronti per iniziare, cominciamo! Ci sono tantissimi modi per esprimere una sensazione di felicità. Il primo è ovviamente essere felice. Sono felice di vedervi tutti. Sono felice di rivederti, amore mio. Tutto questo è verissimo e io sono felice di essere stata utile ai miei amici, ma ora io sarei felice di ritornare nel Kansas. Essere felice significa to be happy. È una dichiarazione chiara di uno stato di felicità. Facciamo una frase. Sono felice di essere qui con voi oggi. Sono felice di essere qui con voi oggi. Sto semplicemente dichiarando il mio stato di felicità nell'essere qui con voi oggi. Passiamo alla seconda espressione che è essere contento o essere contenta. Essere contento esprime una sensazione di felicità un po' più temporanea, un po' meno intensa dell'essere felice. Indica un po' una soddisfazione generale momentanea. Facciamo anche qui una frase. Sono contenta del risultato dell'esame. Sono contenta del risultato dell'esame. Passiamo alla terza espressione di felicità. Qua iniziamo ad entrare nel tema cielo. Vedrete che ci sono molte espressioni in italiano che sono inerenti alla felicità che hanno qualcosa a che vedere con il cielo. La terza espressione è essere al settimo cielo. Questo indica una felicità estrema, come essere quasi in paradiso. Si tratta infatti di una felicità molto intensa, di un'euforia. Anche qui una frase. Quando ho saputo della promozione, ero al settimo cielo. Quando ho saputo della promozione, ero al settimo cielo. Questo ero al settimo cielo significa ero felice, ma è ancora più forte. Indica una felicità davvero intensa. Continuiamo e passiamo alla successiva, che anche qui ha a che vedere con la parola cielo. Ed è toccare il cielo con un dito. Questa è un'espressione che utilizziamo dopo aver ricevuto una notizia meravigliosa o dopo un avvenimento meraviglioso. Quando Lucia è diventata mamma, ha toccato il cielo con un dito. Questa espressione è sicuramente un po' più poetica. Si usa davvero per degli eventi di estrema importanza, come per esempio la nascita di un figlio, o un matrimonio, o anche un primo appuntamento. Però degli avvenimenti che scaturiscono in noi una felicità indescrivibile. Passiamo adesso ad un'espressione che indica un forte entusiasmo. Questa espressione è Essere su di giri. Essere su di giri esprime un'energia euforica, un po' temporanea purtroppo. Di solito si usa dopo una notizia fantastica, emozionante, oppure dopo un evento esaltante. Facciamo una frase. Dopo aver visto il concerto, ero su di giri per tutta la notte. Significa che ero in uno stato di forte entusiasmo, ero piena di energia, piena di felicità, proprio perché il concerto mi aveva regalato questa energia, mi aveva trasmesso questa energia. Ovviamente, un'espressione per esprimere questa stessa sensazione è Essere euforico o Essere euforica. Per esempio, Matteo era euforico dopo la vittoria della partita. Matteo era euforico dopo la vittoria della partita. Anche qui stiamo parlando di una felicità intensa dovuta ad un avvenimento particolare che ci ha dato tanta energia. Così tanta energia che a volte può sembrare quasi uno stato di agitazione. Passiamo alla seguente espressione, che è un'espressione che mi piace molto ed è Essere raggiante. No, 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 è andato direttamente in aeroporto dopo la cena ma era raggiante. È leggermente diversa dalle altre perché di solito è qualcosa che noi usiamo quando vogliamo dire che qualcuno è visibilmente felice. Raro che una persona dica sono raggiante perché eccetera eccetera. È qualcosa che noi vediamo in qualcun altro, quindi di solito è qualcosa che noi diciamo ad un'altra persona. Trovo che sia anche un complimento splendido da fare a una persona se effettivamente la vediamo raggiante. Essere raggiante significa che la felicità è così grande che è possibile notarla visibilmente. È una felicità visibile, contagiosa e che è spesso evidente nell'aspetto e nel comportamento di una persona. Facciamo una frase. Durante il giorno del loro matrimonio Luca e Martina erano raggianti. Con questa espressione stiamo dicendo che Luca e Martina erano così felici che era possibile notarlo da fuori in base al loro comportamento, alle loro espressioni del viso. Passiamo alla seguente espressione che è molto comune ed è essere entusiasta. Perché tu saresti stato entusiasta e invece io non sapevo. Oppure quando ti ho detto di venire a lavorare da Lima eri entusiasta, felice, elogiavi Lima. L'aggettivo entusiasta si usa sia al maschile sia al femminile. Quindi possiamo dire Giulia è entusiasta o Riccardo è entusiasta. Forse è una delle più generiche tra tutte quelle che abbiamo visto. Può essere utilizzato per dire che siamo contenti per qualcosa che è appena accaduto. O quando siamo felici e pieni di energia per un nuovo progetto in cui crediamo. Si usa per esprimere uno stato d'emozione e di interesse molto forte verso qualcosa. Ecco perché è usato quando parliamo di progetti, di nuovi lavori. Proprio perché abbiamo un forte interesse per quello che sta per succedere. Facciamo un esempio. Sono entusiasta per il viaggio che faremo. Stiamo parlando di uno stato di felicità, di emozione intensa nei confronti di qualcosa per cui abbiamo molto interesse. Un'altra espressione che usiamo spesso è fare i salti di gioia. Non ti aspettare che io faccia salti di gioia se ci vai. Mi fa male. Io faccio i salti di gioia. Sapete quando succede qualcosa di così bello che quasi ci mettiamo a saltare. In questo caso possiamo dire stiamo facendo i salti di gioia. È una felicità così grande che si può manifestare attraverso il movimento, attraverso i salti. Ovviamente spesso in realtà non stiamo saltando. Però se voi immaginate un bambino per esempio dopo aver ricevuto una bella notizia o dopo che i genitori gli hanno detto che può mangiare il gelato, il bambino molto probabilmente si metterà a saltare perché è così felice che appunto lo manifesta attraverso i suoi stessi movimenti. Ho fatto i salti di gioia quando mi hanno regalato il libro che desideravo. Passiamo alle due ultime espressioni di felicità che sono due espressioni un po' religiose. La prossima è essere felice come una Pasqua. La Pasqua è di solito una festa che rappresenta la felicità, la gioia della rinascita. Proprio perché celebra la risurrezione di Gesù dopo la sua morte. Vediamola in un esempio. Quando Federico ha visto i suoi genitori all'aeroporto era felice come una Pasqua. Quando Federico ha visto i suoi genitori all'aeroporto era felice come una Pasqua. Stiamo parlando anche qui di una felicità molto intensa. Passiamo all'ultima espressione che ho messo per ultima forse proprio perché rappresenta il livello massimo di felicità. Questa espressione è stare da Dio. Qui a Giovanni Spurgo ho cambiato mestiere e me la passo proprio da Dio. Qui stiamo parlando, come vi dicevo, del massimo grado di felicità. Si usa quando tutto va bene, quando abbiamo una buona salute, quando la nostra famiglia sta bene, quando il lavoro va bene, la nostra relazione va a gonfievele, allora possiamo dire che stiamo da Dio. Si usa solitamente quando stiamo in uno stato di relax, per esempio in vacanza o quando siamo talmente tranquilli che non abbiamo neanche una preoccupazione. Vediamo una frase. Questo significa che Valeria era al suo massimo grado di felicità. Probabilmente stava bene fisicamente, non aveva preoccupazioni di lavoro e andava tutto bene in generale. Quindi Valeria stava da Dio. Abbiamo finito qui con le espressioni di oggi. Avete imparato tanti diversi modi per esprimere la felicità in italiano. Ovviamente, come vi dicevo all'inizio del video, potrete sempre utilizzare essere felici. Quindi non preoccupatevi se non vi ricordate queste espressioni. Però ho pensato che fosse una buona idea insegnarvele, perché sono delle espressioni che noi italiani utilizziamo spesso. E quando dico utilizziamo spesso, le utilizziamo nei contesti, per esempio, che vi ho menzionato. Una notizia importante, un avvenimento felice, uno stato di relax totale. Però sono delle espressioni che danno delle diverse sfaccettature all'aggettivo felice. Sfaccettature che possono essere relative all'intensità, oppure al motivo che ci causa la felicità. Ad ogni modo, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e io vi ringrazio come sempre per averlo visto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!